salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi volevo condividere con voi un progetto che ho realizzato che è stato davvero impegnativo sia nella progettazione che nella creazione dei pezzi per realizzarlo ovviamente sto parlando di un progetto in stampa 3d e il progetto di cui voglio parlare oggi è un progetto fatto con i mattoncini lego stampati ovviamente con le mie stampanti 3d che sono serviti appunto per realizzare un progetto questo progetto che ha realizzato da punto di vista appunto dell'ingegnerizzazione e della creazione un mio carissimo amico il reda che saluto essendo lui un super amante dei lego appunto creato questo progetto che ovviamente non è nessuna copia di prodotti già esistenti della lego che gli avevo richiesto appunto di crearmi un progetto non complicatissimo però un qualcosa di unico ovviamente e di particolare che poi avremmo creato con i pezzi stampati con la stampante 3d quindi dopo un po di scervellamento è arrivata il progetto e ragazzi secondo me è venuto benissimo e per realizzare questo progetto ho dovuto stampare oltre 300 pezzi per fare tutti questi pezzi hanno contribuito lei longer lk4 una stampante low cost e super economica che ho recensito e portato qua sul canale perché è davvero super consigliata per chi vuole spendere poco poi ha lavorato e in questo caso ha lavorato tantissimo lei prusa i3 mk 3s un prodotto incredibile che ovviamente a differenza degli altri non è un prodotto cinese e questo già ragazzi fa la differenza ed è un prodotto che ho portato anche questo sul canale anche se qua il prezzo ovviamente non è low cost ma è un prodotto davvero incredibile per stampe davvero super precise e di qualità e poi ha contribuito anche lei la flashforge creator pro 2 è sempre una stampante che ho portato qua sul canale con recensito perché perché è particolare perché ha due estrusori ed è completamente chiusa quindi per determinati filamenti sicuramente il prodotto ideale e poi con il doppio estrusore venta davvero super utile per certe situazioni di stampa quindi ragazzi tutte queste stampanti hanno contribuito e partecipato alla creazione della baita di montagna e secondo me un progetto venuto benissimo perché realmente ma ricorda una baita di montagna l'idea era quella creare una baita di montagna quindi vedete ho utilizzato vari colori addirittura anche questo marroncino chiaro che è proprio il filamento legno quindi per dare ancora un tocco più di realismo a questa baita e ragazzi secondo me il risultato è incredibile guardate che bella che è venuta ovviamente è stato molto impegnativo assemblarla perché i file dei mattoncini lego che troviamo su fingiverse sono fatti da vari progettisti diversi quindi le tolleranze non combattono facciano perfettamente tra uno e l'altro finché i pezzi sono fatti dallo stesso progettista tutto va bene ma quando poi si vanno a mischiare con altri pezzi fatti da altri progettisti le tolleranze non sono uguali quindi in certi casi c'è stato da limare pezzi in certi altri da metterci un filino di colla perché se no i pezzi non si sarebbero agganciati quindi è stato un lavoro impegnativo sia progettarla perché comunque bisognava studiare che pezzi fare che pezzi mettere per appunto dare un aspetto così realistico di una baita di montagna e poi è stato molto complicato anche assemblarla ma il risultato direi che è fantastico anche le persiane che si possono chiudere e addirittura anche le finestre che si possono aprire e chiudere cioè veramente un prodotto secondo me incredibile e l'effetto ragazzi è stratosferico ovviamente è una cosa fatta così ma per vedere fino a che punto si poteva spingere a creare un qualcosa con i mattoncini lego fatti con la stampante 3d e poi è un progetto comunque unico perché come vi ho detto non è copiato da nessun progetto già esistente della lego quindi secondo me l'effetto è spettacolare anche perché comunque ho usato appunto avete visto tutte e tre le mie stampanti sia la più economica la longer l 4k sia la fantastica i3 mk 3s di prusa quella che ritengo la numero uno delle stampanti domestiche perché comunque anche l'unica alternativa alle stampanti cinesi ed è veramente qualcosa di eccezionale e poi ho usato comunque una stampante sicinese ma con caratteristiche super particolari che è la flash forg creator pro 2 perché è una stampante con due estrusori che lavorano in maniera separata quindi tutte queste tre stampanti hanno dovuto veramente impegnarsi tanto perché stampare tanti mattoncini vuol dire tante tante ore di lavoro per una stampante 3d quindi usando le tre ho velocizzato il tutto però il lavoro è stato comunque lungo e impegnativo perché comunque andava veramente studiato ogni pezzo che andava poi a decorare quello che era l'effetto finale della baita quindi sapere che pezzi ci sarebbero voluti per creare questo effetto realistico di baita di montagna quindi ragazzi questo era solo un video perché ci tenevo a portare sul canale questo progetto che ho creato con la stampante 3d perché secondo me è venuto talmente bene che ci tenevo a condividerlo con voi se questo progetto della baita di montagna con i mattoncini stampati con la stampante 3d vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anteprime voli in fpv stampe 3d tantissime cose arrivano lì sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telecom offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo nell'accensione un test un tutorial una novità un'accensione 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 un